Questo nuovo video con Andrea, ora entrerà Valerio nel party, io ho pescato uno scar, uno scar, non so com'è Giacco, lo so l'hanno appena preso, andiamo a rapide Te la vuoi rischiare Andre? Metti una jump, senti Prendo l'elicottero, ho messo la jump, ci arrivo preciso, preciso Edo, provo a fare come gli scagnotti, ci provo Nemici, sali, distruggo la jump Sali Andre, sali vabbè Andiamo scappiamo, prova a sparare No Ma chi è che ti spara? Edo, per me è nebito E quindi Edo, comunque in una cassa ho trovato il tipo Edo, per me è un altro Edo, per me è salvato Edo, per me si posso dividere Edo, per me è salvato No, ti vale Che l'ho fatto io, sono salvo 15 prima di me Pure io Edo, ma... Aia, mi chiede, aia Eccoli, li vedo Mi devo curare metto una giampa andrea aiutami mi viene addosso vuoi pushare non mi rubare i colpi non mi rubare i colpi pochissimi si si io mi prendo non mi rubare niente i colpi e mo te li do io dai vabbè elicottero nascondisi qui vieni tieni ah no colpi io ne ho pochissimi però tieni vabbè no no tranquillo tranquillo andrea io c'ho un battito a bene stai fermo l'avventura dei dati del bollettino di oggi vai ancora una bassa siamo in 20 andrea sto già registrando quindi ragazzi iscrivetevi al canale e lasciate l'ai l'elicottero e mi metto qui non ci devono vedere edo non so perchè ma gli elicotteri mi mettono anche pure a me ma pure i motoscappi è pure i motoscappi no ma te sai scarre come leggendario viola ma silenziato no l'ho pescato io io l'ho pescato però edo quanto scendai? eh io ho 43 aspetta mi faccia un scendino va è bravo è motoscappo e vabbè è motoscappo lo senti anche te il rampino ma chi è? qui a fianco a me 2498 sono in terapia intensiva pari al 8% del totale eito se mi scappò registriamo 427 nuovi ce la fai dove stai edo? e questo è la guarda di forza e campo e siamo a finire oggi il numero da qua edo sta scappando aspetta che c'è l'amico che l'amico che l'ato ho? l'amico? e mo qui abbiamo ascoltato come un giorno in diretta quelli che sono gli aggiornamenti sulla sicurezza e non ce la fai? ho detto che ci sono colpi di Barrett che voglio ringraziare insieme a tutti eeeh scappato stampiamo pure noi al personale delle forze armate delle forze di polizia delle non ce la faccio io ce la faccio un totale di 655 ma perchè il mio personaggio non ci arriva? guarda andre sono le tende che vengono installate all'ingresso del personale per evitare che ci sono fenomeni di contagio negli ospedali e c'è tutti i miei tende penitenziati e dove vieni? io ci sono andre sono la miniganna ha perrato uno ha perrato andiamo ci sono stati trasferiti ci guardavo e passiamo quindi finiamolo edo per poca modo caldo ah no niente 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 mi serve la miniganna no io ho tutto viola che? mi sacchinano attento non tutta ecco ho messo la lobby privata entra non è privata la safe poi ahia è lì sulla montagna voi ti runa delle mie cecchinate come ho fatto a quello di prima al barret ti vuole secchinare ma scappa vieni 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 messa no spacca il muro sopra ok scappa spacca scappa spacca scappa mamma mia scioglilingua vieni seguimi ma perché vabbè se non mi segui per andare a non può funzionare cioè ci muori vieni io ho ombre io ho nitro bimba scema viziata gli metto se alterno siamo safe controlla ma non siamo in safe ho preso danno cura mia no lì c'è un aug leggendario c'è una sky deve morire mi killa ogni volta la sky la sky mi killa sempre e film una sky quelle nuove la nuova skin del pacchetto da 5 euro andrei scendi lo so scendi a un barret e c'è la tempesta l'altra volta ci sei pure morto con richie voi tre dobbiamo andare in safe e se ci facciamo un fortino qui andrei non siamo in safe che fortini fai è vero buonasera ringrazio molto per questa opportunità io mi devo fare uno cildino perché sono a 49 corri una jump a te mi fa di sentire c'è una jump ora metto il punto di dove andiamo iris ah no quale è vele iris e infatti ci stanno cerchinando corri due due quattro sei otto andrà due contro due contro due contro uno uno ecco ce n'è uno da solo è quello del team che abbiamo chillato chillata ti do no il tattico è mio però prendete il pompaforte io ho lo scar e la mitraglietta se vuoi però dobbiamo andare in safe vabbè ma il pompa era viola vabbè io ho il tattico viola due contro due contro aspetta ma secondo me non è infatti mi sa che uno è da solo mi sa oppure siamo terzi aspetta ma questa appena tira fuori la testa lo faccio cadere aspetta no andrei nasconditi ma io li dovrei facciamo io li devo far cadere questi se ti fai una kill falli cadere tu Andre ah no sono scesi non sono stupidi io non capisco Andre rimaniamo qui dietro chi è schiena del servizio sanitario nazionale sia frutto di intergalazione Andre io ho drift sono stati sfortunati allora 4 kill io no 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 Andre levati non ho spazio così dobbiamo stare vieni dietro vai all'altro albero vai all'altro albero vai là no ma è uno da solo questo eh ma visto a me vuoi pushare no a me io non si parola ah ci aspetta eh io aspetto lui tanto siamo più in safe noi di lui è vero c'ha ragione ma io ho una paura che mi venga uno da dietro così all'improvviso sì è possibile che questo è un virus molto Andre ma che hai fatto che cavolo Andre hai fatto una nabbata assurda è morto oh no eh lo so la safe mo' ci andiamo non perdiamo occasione di sincerarci se il paziente la comunale mi sa di sì a me sì vuole pushare me ma non sa che siamo in due mi manda direi che se rafforziamo la fiducia nel nostro sistema sanitario nazionale che anche in questa occasione è vero ma perché ci vai da solo mi spieghi no voglio una spiegazione se mo' moriamo contro uno eppure a me che tutte le nazioni si stanno orientando per quello che ormai viene definito internazionalmente il modello italiano e anche di questo penso che ci sarà essere molto togliato ma dove andremo in safe ma dove sono questi scusate ma le safe non hanno usato mi sa il bug quello dell'immortalità hanno usato un bug eh Andre hanno usato un bug siamo solo noi due nella safe è impossibile è impossibile è impossibile Vale sono io vi dico io com'è hanno usato il bug e no abbiamo perso abbiamo perso Andre però è come se l'avessimo vinta perché loro hanno barato no no io no dai lo voglio perché loro stanno fuori sono a loro sono a Pantano nella cascata stanno usando un bug Andre lo so no dai non possiamo no dai però io no si va bene vedi che ci siamo se l'avessimo vinta e Andrea cioè segnalali dopo vediamo dopo dove sono è come se l'avessimo vinta raga è come se l'avessimo vinta noi no si va bene io no no io no no si chiude ma voglio dire dove la safe dove la safe è qui ok io siamo in safe noi perché loro stanno usando un bug che usano il bazooka band mentre stanno nella cascata no se tu Andrea se tu appunto Andre e Vale no no non possiamo morire così no io non possiamo allora segnala il giocatore ma tanto c'è ma sono sopra di noi forse c'è una c'è una skybase guardate ecco lì ecco lì facciamo win vai che muoiono si lo sapevo che occhio di falco mi chiamo da te mi chiamo da go lo sapevo Grazie a tutti.